Giacomo Tulli C'è una pagata quindi a Favasulli che ha rimesso in piedi tutta la situazione e ti permette di sperare con il contributo anche domenica dei tuoi compagni di essere protagonista dell'atto finale? Sì spero, Ciccio l'ho detto io pagherò una cena quindi no a parte scherzi per fortuna adesso dobbiamo pensare a Latina che è la cosa più importante, quello che è stato e Ciccio se lo merita e bene è così. In Latina è favorito però il traguardo è lì, come sta vivendo la squadra a questo momento? Anche Perugia era favorito, il calcio è rotondo l'abbiamo visto, la squadra c'è entusiasmo, i tifosi tutto bello, adesso sta a noi a mettere in campo quello che sappiamo fare sperando di portare a casa quello che ci meritiamo. Domani l'arena sarà completamente esaurita, sarà l'uomo in più sicuramente.